Ieri festa, bomba bomba bomba, Perù conquistato Ciao, grazie, Alex Salve lo negativo e lo positivo Sempre positivo Ragazzi, eccoci qua Grande ritorno di Stevei Vado in Peru Antonio, vienes conmigo Sì, vado a beco Vamos yo Antonio in Peru Siamo arrivati, appena atterrati a Lima Wow ragazzi, c'è un casino devastante qua Siamo arrivati Eccolo qua Felipe, video contro video No, punto, salvinare Giacchettina subito Stavolta ho imparato con il c***o che mi frega ancora Allora ragazzi, buongiorno Buongiorno Eccoci in Peru Guardate che carina Mo si che iniziamo a ragionare E vai E vai Ma ragazzi, è bellissimo qua Oh, bello, bello, bello Siamo qua a Chorrillos Anima E iniziando a changedi È iniziando a lavorare E nei I I E I I I I I I I I I una è crisocola e l'altra è golca, le due sono piedras privane, basicamente protezione contro la mala energia. Molto grazie Alex. Sempre lo negativo e lo positivo. Sempre positivo. Finalmente, vamos a comere il cedice. Buonissimo. Buonasera, grazie. Salute. Qua, originale. Buono, buono, buonissimissimo, fantastico. Ragazzi, eccomi qua, sono tornato, sono carichissimo, sono pronto per andare alla serata. La Casona de Camanà in Lima. Ciao Amos, è arrivato il momento, alla Casona dell'Amor. Ciao Amos. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Adesso Colombia, Bogotà e stanotte Vagabone Club. Nos vemos por allá. Vamos. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.